Buonasera Di nuovo a Cartoon in una gara nuova Roberto e Diana, quanto bravo è Ok, questa è la prima data del tour Il disco è uscito da due giorni Non sa ancora camminare Mi cambiamo il pannolino da notte Comunque Ci vediamo dopo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti